buonasera vi saluto saluto i telespettatori di artistas e volevo appunto dare un mio contributo grazie a tutti quelli che sono nella produzione il tema che propongo è quello dell'innovazione innovamento sappiamo che a tanto è necessario non solo dire al sindaco cosa deve fare o sperare di ma l'iniziativa privata è importante quindi dato che sono il dottor Gitt Roberto Liuzzi sono insegno l'intuizione da decenni propongo di parlare un po' di questo tema come avere nuove idee come creare nuovi posti di lavoro in modo che nella città nei dintorni si crei questa attenzione su come creare nuove ditte come creare lavoro e l'iniziativa privata che è importante quindi noi sappiamo a volte pensiamo quando ci siamo stancati di pensare dopo tre mesi come fare all'improvviso in silenzio ci viene l'idea geniale e viene dall'intuizione dato che l'intuizione non viene insegnata né nelle scuole né nelle università perché perché è individuale l'intuizione individuale quindi è come quando mangiamo a chi piace una cosa a chi piace un'altra quindi non si può creare una scienza generale sull'intuizione quindi è importante insegnarla è importante ricominciare a capire qual è quali sono i pensieri e quali sono invece le idee geniali geniali perché vengono dai nostri geni no e quelle si possono attuare quello che pensiamo spesso è un pensiero che va dall'uno all'altro che non ci dà forse soddisfazioni quindi per questo propongo tutti mercoledì dalle 7 alle ore 19 un corso online si potrà partecipare tramite il computer a questo corso e si potrà intervenire tramite skype sull'intuizione e ci saranno appunto diversi temi perché l'intuizione è a tanti aspetti no quindi come utilizzare l'intuizione distinguerli dai pensieri come ascoltare il proprio corpo cosa voglio mangiare oggi cosa mi fa bene oggi l'influenza dei genitori degli antenati in generale nelle relazioni ti amo non ti amo resto con te non resto con te come sento la mia casa perché abito lì dove abito come vedo gli altri li giudico li apprezzo vedo l'essenza delle persone o la superficie cioè in tutte queste cose l'intuizione ci aiuta a vivere in un modo più che mi dà più vantaggi quindi emozioni negative sentimenti positivi gli aiuti dall'alto ognuno in diverse ognuno ha una proprio un proprio sistema di come farsi aiutare quindi questo è un po mio contributo quindi vi chiedo le vostre esperienze sull'intuizione cosa ne pensate come attivare questa forza fantastica che ci ha dato la natura come leggere dalla scienza interiore e vi chiedo il vostro parere su questa scienza ricordo che tutte le scienze sono nate dall'intuizione quindi chi dice ma l'intuizione sì forse no però dall'intuizione senza intuizione non sarebbe nata nessuna scienza nella matematica filosofia democrazia eccetera eccetera va bene quindi iscrivetevi al corso scriveteci e non costa niente e così impariamo insieme va bene grazie ciao ciao